Siamo con Enzo Cainero, promotor frullano delle tappe del Giro d'Italia. Il Crostis, nonostante il tradimento, continua a trarre, però quella strada andava regolamentata. Sì, il Crostis è stato un successo incredibile soprattutto perché non è stato fatto e quindi è diventato un fenomeno che tutti vogliono percorrere. Quindi era necessario regolamentare la transitabilità soprattutto sulla parte alta, sulla parte della panoramica delle vette dei 2000 metri perché è una strada pericolosa se non lo si affronta con una certa regolamentazione. L'incrocio di due macchine sarebbe stato molto pericoloso. Ieri è stata fatta una bellissima riunione da cui esco molto soddisfatto e rinforzato sulla volontà di tutti i comuni dell'area di sfruttare, dico in senso positivo, questo gioiello che assieme allo Zoncolan costituisce una cosa irripetibile. Con riunione operativa e concreta si è deciso appunto di fare l'assenso unico d'attualis verso Casera-Valla Secca e poi dal 2012 l'obolo per auto e moto, bici esclusi. Questo è importante perché sennò rimontano le polemiche. Sì, 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 c'è stata una volontà. Io sono un sostenitore del fatto che siccome chi fruirà di quella strada dovrà fruire di un percorso agibile e quindi sempre ben manutentato e a 2000 metri di altezza l'inverno fa pesare le sue conseguenze, ho ritenuto di proporre questo pedaggio ben accettato da tutti che non vale per le biciclette assolutamente. Voi dovete pensare che nelle ultime due o tre domeniche i posti macchina su in cima erano esauriti, c'era una marea di motociclette. Tutto questo movimento crea l'esigenza di manutentare la strada, quindi è un pedaggio che non va a favore dei comuni per le casse, per le spese loro autonome e di altre cose, ma esclusivamente è solo per quanto riguarda la manutenzione delle strade.